Era già accaduto lo scorso 13 agosto in pieno centro storico, in quell'occasione fu preso di mira il bar Naif in via Giacomo Navarra Bresmes. I gnoti utilizzarono una mazza per sfondare una delle vetrate principali del negozio, rubando i contenitori portamonete di due slot machine. Il bottino fruttò 1.500 euro. Simile copione si è registrato la scorsa notte intorno alle 4. Sconosciuti malviventi hanno puntato la loro attenzione al chiosco di Ruben al porto rifugio. Utilizzando un passepartout si sono introdotti nello locale ed hanno portato via con l'ausilio di un mezzo due slot machine ed una macchina cambia monete. Sono stati gli uomini della vigilanza notturna subito dopo a rinvenire sulla strada in via Federico II di Svevia alcuni pezzi di quanto trafugato in precedenza. Sul posto è arrivata la polizia e dopo minuziose ricerche all'interno dell'area dell'ex Lido Eden, oramai abbandonato, sono state rinvenute le due slot machine. Nessuna traccia invece è della gettoniera. Al cui interno c'erano quasi 500 euro. La polizia ha requisito le immagini del sistema di videosorveglianza collocato all'esterno del chiosco di Ruben al fine di risalire agli autori. Intanto, in merito ai controlli eseguiti ieri dai carabinieri del reparto territoriale e dagli agenti della polizia municipale finalizzati al contrasto delle violazioni al codice della strada, sono stati deferiti in stato di libertà alla locale procura due cinquantenni gelesi per guida senza patente. In particolare, i militari dell'arma, impegnati in un controllo in via Venezia-Angolo-via Tevere, hanno sorpreso la guida rispettivamente di un Peugeot Vivacity e di un Aprilia Scarabbeo, i due uomini, senza che questi avessero il titolo idoneo per condurre il proprio mezzo. Il primo, infatti, non aveva mai conseguito la patente e dal secondo, invece, era stata revocata. Sono state inoltre controllate 68 persone, 43 tra autoveicoli e motoveicoli ed elevate 15 contravvenzioni al codice della strada. In particolare, sono stati sequestrati sei tra auto e motocicli, sia per mancata copertura assicurativa, tre auto, sia per il mancato uso del casco protettivo, tre ciclomotori. A seguito dei controlli che hanno riguardato la zona di via Venezia e di via Tevere ed il corso principale, è emerso comunque che un sempre maggior numero di utenti della strada rispetta quelle che sono le norme prescritte dal vigente codice, dimostrando quindi che il controllo del territorio, anche in questo caso, ha dimostrato la sua efficacia nel contrasto alle mancanze commesse dagli automobilisti e dai motociclisti.